CF Informatica vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, Tre, Team, Telecom, Vodafone e Linken. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica è in via Lanza a Dortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Buonasera a tutti. Vi abbiamo fatto aspettare un po' tanto, è colpa sua. Però alla fine è arrivato Michele. Ecco qua. Michele, prima di cominciare a parlare di politica, devi fare una cosa per me. Devo cantare. No, cantare no. Ti chiedo una cosa che normalmente una donna non deve chiedere a un uomo. No, abbracciami, perché così voglio dire, facciamo, cancelliamo quelle voci, quella calunnia sottile sottile che va in giro, che dice che io e te abbiamo litigato e che tu a me non mi puoi proprio vedere. Ma come dobbiamo fare con questa donna? Beh, fatele un applauso, adesso che l'ho abbracciata. Perché se le mancava qualcosa adesso ce l'ha. Mi ha abbracciata nonostante gli abbia detto di no, ma lui è autenticamente democratico, per cui va avanti. Io voglio dire, non si attacca queste cose al dito. Allora Michele, noi dobbiamo fare velocemente, perché sono le otto, dobbiamo dirti un po' di cose. Ma prima che io ti dica quello che ho da dirti, ebbene, voglio dire, qua c'è Antonello Mazzione, che è il segretario dei Giovani Democratici di Orta Nova e che ha appena 19 anni. Pensa, lui ha cominciato a fare politica dopo il mio comizio del 12 gennaio. Quindi è un neofita, è animato da tanta passione, da tanta volontà, adesso è emozionatissimo perché è al tuo cospetto. E ha da dirti due cosette per cui voglio dire, Antonello, fatti avanti. Grazie. Buonasera a tutti cittadini e cittadine di Orta Nova e anche ospiti degli altri paesi dei 5 reali siti. Sono Antonio Maffiù, innanzitutto un caloroso benvenuto al nostro candidato presidente della regione Puglia, il dottor Michele Emiliano. Sono veramente emozionato perché mi trovo al cospetto di due colossi della politica, veramente per un ventenne come me è veramente una grandissima emozione, devo essere sincero. Io sono il segretario dei giovani democratici di Orta Nova e siamo poco più che ventenni, chi di più chi di meno. Siamo giovani, abbiamo la passione, un fuoco che arde in noi, che è quello di cambiare il nostro paese nel nostro piccolo. Devo essere sincero, noi, almeno soprattutto io, mi sono proprio, come diceva Iaglia, mi sono interessato proprio alla politica. Abbiamo deciso insieme, i miei compagni, di metterci la faccia, di scendere in piazza, di combattere le battaglie politiche proprio dopo il 12 gennaio. E abbiamo aiutato in tutto, pure le amministrative, ad aiutare la nostra coalizione. Quello che ti chiediamo è di non togliere la speranza ai giovani, perché il momento in cui stiamo vivendo questa situazione politica porta molti giovani ad allontanarsi, non solo dalla politica ma anche dal nostro paese. Io chiedo di non dimenticarti di tutte quelle, diciamo, le periferie della Puglia, come i Cinque Reali City, i Monti Dauni, che stanno veramente vivendo un momento molto critico, ma soprattutto di dare fiducia a noi giovani, perché spezzare il futuro, cioè il futuro dei giovani e tagliarli proprio le gambe, e il futuro di noi giovani, devo essere sincero, merita coraggio, perché abbiamo delle belle idee che possiamo darle per aiutare Orta Nuova, i Cinque Reali City, ma anche il nostro bellissimo territorio che è la Puglia. Grazie a tutti. Beh, Antonello, bravo, ti sei alleggeto, sei più tranquillo. Allora Michele, dieci minuti devo parlare, perché ho da chiederti delle cose, non per me, per la Puglia e per questo territorio. E voglio cominciare dicendo che leggevo qualche giorno fa una frase di Alcide De Gasperi, che diceva che la differenza che esiste tra chi fa la politica per professione e chi invece è statista sta in un fatto. I primi, quelli che fanno la politica per professione, pensano alle prossime elezioni, i secondi, gli statisti, pensano alle prossime generazioni. Io ti chiedo di essere statista. Certo, tu dici, ma noi mo le dobbiamo vincere le elezioni e noi mo ci organizziamo e le vinciamo. Ci mettiamo pancia a terra e le vinciamo. Le vinciamo per te e le vinciamo per questa regione meravigliosa. Perché insieme a te, lo vedi, abbiamo allestito diciamo uno pseudo cantiere per darti appunto l'idea che vogliamo progettare con te il futuro. Perché insieme a te dobbiamo continuare a scrivere una storia diversa e migliore per noi tutti e per le prossime generazioni, per Antonello e per tutti quelli che hanno appena vent'anni. Io ti devo chiedere alcuni impegni e vorrei appunto che tu li prendessi qua davanti a tutti. Il primo impegno che ti chiedo è quello di combattere senza esitazioni e senza ambiguità e senza prendere tempo, perché non è più tempo di perdere, di prendere tempo, l'illegalità e la corruzione. Io mi sono trovata da qualche mese a questa parte esposta a delle considerazioni, devo dire, che mi hanno creato parecchio disagio. Quelle per cui mi hanno detto, sai, noi le elezioni le abbiamo perse, parlo delle elezioni amministrative, le ho perse perché le vittorie hanno tanti padri, la sconfitta in questo caso ha avuto una sola madre. Perché tu hai parlato troppo della questione morale, perché tu hai parlato troppo della netta distinzione che c'è tra chi la politica la fa e chi della politica approfitta. Hai rotto le scatole, questa cosa ti ha reso antipatica e più. E che ti credi? Avremmo dovuto essere più blandi, più morbidi. Beh, qualche favore avremmo potuto farlo. Beh, io Michele ti dico che non ritengo assolutamente, quando mi dicono ma chi ti credi di essere, pensi di essere quella che detiene in via esclusiva l'appalto della legalità. No, niente affatto, io sono convinta che in questa città e in tutta l'Italia ci sono un mucchio di persone per bene che lavorano onestamente senza aspettare né medaglie né aiutini né di conoscere il potente di turno per chiedere favori. In tutta l'Italia, gente che vive onestamente, che è convinta che le istituzioni sono massima manifestazione di civiltà e sono massima garanzia di diritti per tutti. Io ne ho parlato perché era un modo per dire a tutti i cittadini facciamo attenzione perché l'attenzione accende la luce. Quando si accende la luce, Michele, c'è più giustizia, non soltanto quella che viene dai tribunali, ma viene una maggiore giustizia sociale ed economica, dove c'è luce c'è meno paura, dove c'è luce chi governa come te tra due mesi tornerà al governo, si sente meno solo. E allora, Michele, se tu vuoi che noi donne e uomini pugliesi scegliamo te come il nostro unico partner, il nostro fidanzato ideale, ci devi promettere che non chiuderai occhi, assolutamente, nessun occhio, quando si tratterà di combattere la corruzione. Perché questo territorio, e non lo dico io, lo ha detto l'ex prefetto di Foggia, la dottoressa Latella, durante un'audizione dinanzi alla commissione parlamentare di inchiesta per le intimidazioni agli amministratori, ha detto che questa provincia, che è una bella provincia che ha addirittura dieci multinazionali di grande livello, di ottimo livello, è un tessuto fittissimo di medie e piccole imprese, è però una provincia che sembra risucchiata in un cono d'ombra, un cono d'ombra dove sembra che tutto sia possibile, un cono d'ombra purtroppo caratterizzato dall'illegalità che pervade tutto, che tocca anche le istituzioni, dall'omertà e da una profonda povertà. E allora è da qua che dobbiamo passare, per rilanciare, come si dice, la crescita, lo sviluppo, il progresso in questa terra. Noi non ti chiediamo, Michele, di diventare un supereroe, anche perché con la tua stazza, diciamo, dubito che tu possa volare sulle nostre teste. Non dubitare troppo. Vabbè, se ci riesci lo voglio vedere. Però ti chiediamo di realizzare bellezza, di continuare a realizzare bellezza, stando nel solco delle regole, provando a dare maggiore considerazione alle donne, agli uomini e ai territori che sino a questo momento sono rimasti relegati nelle periferie, provando a coniugare, avendo sempre davanti a te le persone, i diritti e i bisogni delle persone, rigore e cambiamento. Esigenze di crescita e di rilancio economico con l'esigenza di maggiore equità. Questa regione è la locomotiva del sud, no? Questa regione non è come quella che trovò Vendola dieci anni fa, per nostra fortuna. Questa regione ha fatto grandi passi in avanti, nel turismo per esempio, anche nella tutela del paesaggio e del territorio. Qui ad Ortanova abbiamo anche avuto la possibilità, grazie ad un'azione di governo lungimirante, abbiamo avuto la possibilità di realizzare, di poter realizzare importanti risultati. Abbiamo allargato tanto per incominciare l'offerta formativa scolastica, potremmo riqualificare l'unico pezzo di città antica che è rimasto qui alle spalle del municipio, potremmo riqualificare un'importante, nel senso di grande zona, che sta in periferia. Abbiamo avuto segno di come la Puglia è cambiata in questi dieci anni, ma ci sono degli aspetti della Puglia che non ci piacciono. C'è la sanità, che è ben lungi dall'allinearsi su quelli che sono gli standard medi a livello italiano ed europeo. Michele qua non si può più sentire che un medico parla con me e mi dice noi ci vergogniamo profondamente quando dobbiamo chiedere ai malati di portarsi le medicine da casa perché le nostre farmacie sono vuote. Non si può sentire che una ragazza malata di tumore debba andare in ospital oncologico pagando. Non è possibile tollerare che per esempio gli anziani siano ore davanti al poliammulatorio per avere le sanzioni ticket perché non c'è personale. E anche il welfare va ripensato. Non funzionano i piani sociali di zona, non hanno funzionato come erano nella testa di chi li ha ideati. Qua abbiamo quattro contenitori, abbiamo un asilo nido, abbiamo un dopo di noi, abbiamo un centro polivalente per gli anziani e un centro di uno per i disabili. Michele, sono chiusi, non funzionano perché non ce li abbiamo i soldi per far partire i servizi. E però abbiamo le associazioni di volontariato, i locali che affittiamo e che sono manco adeguati. E quei locali paradossalmente, questi immobili ci costano, ci costano per la manutenzione, ci costano per la riparazione quando vengono presi di mira dagli attacchi vandalici. Non è possibile che in questa città di 18.000 abitanti il trasporto per i disabili da casa al centro di riabilitazione non sia finanziato se non con grandi enormi sforzi da parte dell'ente comunale. E allora voglio dire, riscriviamo la sanità, le politiche sanitarie, hai detto che da Presidente della Regione terrà in capo a te la delega alla sanità, quindi lo dico al futuro assessore alla sanità. Riscriviamo la sanità tenendo conto dei bisogni delle persone, sia quella la linea da seguire nell'azione di governo. E riscriviamo anche il welfare, tenendo conto delle persone e non sempre, pensando al mattone, pensando a far costruire. Oltretutto, Michele, se proprio dobbiamo far costruire, rilanciamo l'edilizia popolare. Perché dare la casa alle persone è la prima forma di welfare che consente loro di uscire da una situazione di povertà. Un bambino povero, pensiamo ai bambini poveri a cui è negata un'alimentazione adeguata, una casa adeguata, a spazi esterni adeguati, libri, giocattoli, abiti, prevenzione sanitaria. Allora, io mi taccio perché altrimenti non ne usciamo vivi. Io voglio soltanto fare un passaggio su due cose fondamentali. Michele, riduciamo i compensi e riduciamo le indennità ai consiglieri regionali. Non possiamo parlare alla gente, chiedere sacrifici, a volte sacrifici in mani e non essere però coerenti con l'aria di sacrificio che dovrebbe, voglio dire, valere per tutti. Per tutti, a partire da chi governa. Per tutti. E poi devo difenderti, sebbene tu non ne abbia bisogno, perché in questi giorni è montata una polemica sciocca, sterile, sulla questione della mancata approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere. Beh, devo dire, insomma, scagliarsi contro di te, accusarti di tutto e anche di più. Ma stavi in consiglio regionale? Tu stavi in consiglio regionale in questi dieci anni? A parte, voglio dire, dichiarare pubblicamente che una legge del genere avrebbe rappresentato una grande manifestazione di civiltà, tu stavi in consiglio regionale? E allora oggi, dolersi della mancata approvazione di una legge che avrebbe garantito alle donne e una maggiore rappresentanza lì in regione, beh, insomma, oggi dolersene da parte di chi per dieci lunghi anni è stato al governo e alla regione, mi sembra un attacco ingeneroso nei tuoi confronti. Michele, alla fine, e chiudo veramente, questi sono gli impegni che noi ti chiediamo. sapendo che un progetto, un grande progetto, seduce per la forza delle sue idee e per la capacità dei suoi migliori rappresentanti di trasformare quelle idee in agenda di governo. in agenda di governo, noi sappiamo che tu sarai capace, per cui noi vogliamo che tu diventi, noi ti stiamo vicino, noi saremo tutti quanti insieme, insieme a te, tu sei il capocantiere e con te da capocantiere noi tutti quanti vogliamo fare in modo che la regione Puglia diventi sempre più un luogo bello, ricco e giusto per ogni donna e per ogni uomo di questa regione. Grazie, grazie Iaia. Allora, tanto per cominciare, mio nonno era di Mariotto, un paese vicino a Bitonto ed era Mestre Checchiare, voi sapete che cos'era un Mestre Checchiare? Era un muratore, era un muratore che ebbe nove figli e poi mio nonno, anzi questo era il mio bisnonno, mio nonno fece già un salto enorme di qualità, diventò un militare di carriera, fece tre guerre, la guerra di Libia, la prima guerra mondiale, distanza nel Dodecanneso e poi fece anche la seconda in Albania, era già anziano ma aveva un allevamento di galline che si era portato in Albania perché anche lui aveva fatto nove figli e per arrotondare in qualche maniera mandava le uova col postale ogni mattina da Durazzo a Bari e il risultato fu che mio padre, che è morto l'anno scorso, non sopportava più le uova, non ne ha mai mangiate più in vita sua, perché mangiavano solo uova. Quindi quando voi parlate con me e quando parlate con l'esperienza della mia vita, io ho vissuto esperienze, a due anni e mezzo ero a Bologna, emigrato con mio padre che aveva trovato un bel lavoro a Bologna e le mie scuole, le prime scuole le ho fatte in una città dove la gente non parlava il mio dialetto. A casa mia c'erano i quindici, ve li ricordate quella enciclopedia? E c'erano i quattro volumi dell'enciclopedia breve della Curcio, non c'era nient'altro. Mio padre risparmiava pure sull'acquisto del giornale che leggeva al bar. E dopodiché grazie alla scuola pubblica, grazie alla mia maestra, si chiamava Laura Brasolini, era di Padova, io stavo a Bologna e non mi accorsi che ero un terrone io, perché venivo trattato come tutti gli altri bambini. Poi arrivai a Bari e il mio maestro, si chiamava Gilberto Gissi, era un ex paracadutista della Folgore, non era proprio di sinistra, mi insegnò tutte le canzoni militari del mondo e qualcuna anche un po' politica. E stavo in una classe dove noi eravamo in 30, in quella a fianco ce n'erano più di 60, in quella a fianco avevano tutto il fiocco bianco, erano tutti i figli di quelli che comandavano a Bari. E nella classe a fianco, quella dove stavo io, stavano tutti quelli del Libertà. Sapete cos'è il quartiere Libertà? Un nome meraviglioso. Il Libertà era un quartiere popolare. Cinque o sei di quelli sono finiti in galera, quelli della classe mia. Per un miracolo non mi sono trovato io ad interrogarli qualche volta, quando poi, grazie alla scuola pubblica, alla mia famiglia, a mio padre, a mio nonno, alle cose belle della vita, grazie a un concorso pubblico. Sapete cos'è un concorso pubblico? Una cosa dove chiunque va lì, si iscrive, può essere uomo o donna, voi lo sapete che le donne sono di più degli uomini a vincere il concorso di magistratura e tutti gli altri concorsi? Sono più intelligenti? Non lo so, sicuramente studiano di più e sanno fare i concorsi, poi questo non ve lo so dire, ma grazie a un concorso pubblico io ho cominciato a fare un lavoro che non credevo di dover fare perché a casa mia l'idea che qualcuno di noi facesse il magistrato sembrava una cosa irrealizzabile, sembrava una cosa che non spettava a noi. Ancora oggi quando facciamo le riunioni di famiglia e i miei figli ovviamente che sono stati figli fortunati perché il papà era magistrato, aveva fatto il sindaco e io gli presento i miei cugini, uno che fa l'operaio, uno il vigile urbano, uno che fa l'assistenza tecnica a Oshan, uno il tabaccaio, rimangano a bocca aperta e sapete perché? Perché in questi dieci anni in cui ho fatto il sindaco e nei venti in cui ho fatto il magistrato non sono venuti mai da me a dirmi ho bisogno di una cosa. Perché? Perché avevano imparato dal bisnonno, dal nonno, da tutti quanti che se uno di noi ha una responsabilità e alle volte la responsabilità poteva anche essere quella di fare la guardia al bidone della benzina, non so se è chiaro perché non sempre la vita ti dà questa fortuna. Avevi l'obbligo di rispettare le regole, di rispettarle fino in fondo, di rispettarle anche con umanità perché una delle cose che ho imparato a casa mia è anche quella che la vita è dura e anche spietata alle volte e che bisogna avere la capacità di esprimere un concetto che con una parola difficile si chiama solidarietà e che con una parola più facile significa amicizia, significa prendere atto che attraverso i gesti quotidiani si può rendere la vita degli altri migliore e avevi un risultato stupefacente, improvviso, che alle volte stupisce perché rendi automaticamente migliore anche la tua vita. Fare il proprio dovere, fare bene il proprio lavoro è stata una cosa che mi ha portato a 45 anni, immaginate, ero già vecchio, avevo già fatto al bar dello sport, scherzo, avevo già fatto un sacco di critiche ai politici, avevo detto che questa classe politica, immaginate che io facevo il magistrato quando il ministro degli interni, anzi due ministri di seguito degli interni furono accusati di essere parte della camorra, ve li ricordate i nomi, non li ripeto perché ormai sono morti tutte e due quindi è inutile anche parlarne. Io vivevo in un'epoca in cui c'era un presidente della corte di Cassazione, si chiamava Carnevale, ve lo ricordate, è morto pure lui, che noi facevamo le sentenze, io ero alla procura di Agrigento e lui riusciva, non si sa come, a cambiarne il senso, a cambiarne la direzione. Abbiamo subito in quegli anni, che forse abbiamo dimenticato, cose inenarrabili perché ci accorgemmo che tutti i partiti, quando dico tutti dico tutti i partiti, erano dentro un meccanismo sul quale mi trovai ad indagare quando ero alla procura di Agrigento, si chiamava la Maxi Tangente Enimont, ve la ricordate? Sapete che cos'era? Si accorsero, dovendo fondere il più grande gruppo privato della chimica, il più grande gruppo pubblico della chimica, si accorsero che l'operazione di fusione dava, provocava la necessità di pagare un'imposta così grande da rendere questa operazione difficile e in maniera geniale studiarono tutti i partiti di abbassare questa tassazione al fine di favorire la fusione e come premio furono stabiliti tutti i soldi che bisognava dare a tutti i partiti. L'Italia era diventato un posto dove le tangenti si pagavano in maniera sistematica, organizzata e io mi trovavo a essere a 32 anni alla procura di Brindisi perché dalla procura di Agrigento arrivai alla procura di Brindisi dove nel frattempo non c'era solo la Maxi Tangente Enimont, c'era pure la Sacra Corona Unita e gli avvocati che difendevano i politici erano gli stessi avvocati che difendevano i mafiosi e allora si guadagnavano un sacco di soldi perché i mafiosi avevano i soldi in tasca, adesso non ne hanno, stanno tutti al nord forse dietro all'Expo, dietro a mille altre cose e poi mi accorsi, è arrivato a Bari perché ero convinto, guarda un po' l'ingenuità, ero convinto che la mafia a Bari non c'era, quando invece arrivai alla procura di Bari mi accorsi che non solo la mafia c'era a Bari perché sta dappertutto, sta dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, non solo ma c'era il sindaco della mia città che mentre noi eravamo in procura, peraltro in quel periodo dovevo girare con una scorta che sembravo un pacco postale, che il sindaco della mia città pubblicamente, mentre io in una corte d'assise parlando di un ragazzo di 19 anni che aveva fatto 7 omicidi, raccontavo la sua storia, raccontavo che all'età di 9 anni questo bambino era stato messo a spacciare, forse perché i servizi sociali non funzionavano, era stato messo a spacciare dalla sua stessa famiglia, dai suoi genitori, che anziché insegnargli come si pota un olivo, come si fa un pacco in un negozio, come si pesano le mozzarella in una salumeria, perché voi sapete che i bambini imparano in fretta, non ci vuole niente a fargli imparare qualche cosa, se noi solo ci dedicassimo forse un po' di più, e quando dissi, perché questo bambino era di Bari Vecchia, io non so se voi siete mai stati a Bari, ma Bari Vecchia è da un lato, 50 metri c'è il comune. E mi scappò di dire in una corte d'assise che 50 metri separavano il destino dei bambini, perché da quella parte c'erano quelli che venivano messi a spacciare dai genitori e da questa parte c'erano i figli degli magistrati, degli avvocati, c'erano due mondi completamente distinti e il sindaco della mia città, dell'epoca, disse che io farneticavo, che non era vero che a Bari c'era la mafia, disse anche che uno come me non aveva capito un granché della città, non aveva il senso delle cose che avvenivano. E io ovviamente non potevo rispondere, sapete che significa non poter rispondere a uno che ti parla così? Mentre tu sei chiuso nel tuo ufficio scortato da 5 carabinieri a turno, sotto casa con il divieto di parcheggio, con un lanciamissili sequestrato a Messagno, insomma è una cosa un po' fastidiosa, giusto? Successe poi l'imponderabile e cioè che questa città, Bari, che sembrava una città irredimibile, ve la ricordate? Non si poteva entrare a Bari vecchio, pigliavano le macchine della polizia, le mettevano a capa sotto e poi saltavano sopra. La sera di Italia-Argentina mi pare, la semifinale del 90 della Coppa del Mondo, organizzarono un attentato per ammazzare Antonio Capriati che grazie ai supplementari si salvò. Era un posto dove bastavano 4 famiglie, 5 famiglie per stabilire dove si costruiva, come si costruiva e perché firmano due accordi di programma e vengono a Bari due fabbriche gigantesche, la Getrag e la Bosch e sapete chi costruisce le fabbriche dell'accordo di programma? Un'azienda costituita ad occhi in capo al figlio del sindaco che aveva firmato l'accordo di programma e nessuno scriveva niente e nessuno diceva nulla e tutto sembrava naturalmente inevitabile. Fino a che il 12 luglio del 2001, scusate se vi sto raccontando questa storia, ma mentre a Bari la conoscono, io ho paura che voi forse non conosciate questa storia, della ragione per al quale vi sto dettando questi dettagli. Il 12 luglio del 2001 succede qualcosa che non era previsto perché tutto in qualche modo andava avanti. C'erano quelli che vendevano le sigarette agli angoli delle strade, c'erano quelli che vendevano i botti a Capodanno e Bari era un posto dove persino i carabinieri di scorta sotto casa mia, io li dovevo far salire in casa perché la notte di Capodanno il bombardamento li avrebbe messi a rischio della vita. Tant'è che i miei figli piccoli erano convinti che in tutte le case a Capodanno arrivassero i carabinieri, quando andavamo a casa degli altri dicevano i carabinieri quando vengono? E successe, dicevo, qualche cosa di imprevedibile perché durante alle 9 di sera circa, io ero in procura e arrivò la notizia che alle 9, 9 e un quarto, alle 21 e 15, c'era stato una sparatoria, durante questa sparatoria era stato ammazzato un ragazzo di 16 anni e tutti pensarono, vabbè siamo alle solite, hanno ammazzato uno di loro, quando si ammazza uno di loro sembra quasi che non accada nulla, come se un ragazzo di 16 anni possa avere diciamo tra virgolette delle colpe anche quando è stato cresciuto come ho detto prima facendogli iniziare a spacciare a 8, a 9, a 10 anni e invece no, quella volta successe qualche cosa che non era previsto perché tutta questa illegalità che era la mia città era addirittura arrivata al punto di determinare la morte di un bambino di una famiglia per bene, era figlio di un ferroviere, aveva finito di lavorare al bar, studiava al mattino e per andare a salutare il padre che era tornato col treno stanco morto, è una cosa che il padre ovviamente non smette di rimproverarsi, era andato a casa ed era stato colpito da un colpo di pistola morto secco, era alto 1,92 m, era un ragazzo meraviglioso, si chiamava Michele Fazio, da quella sera qualche cosa successe nella mia città perché purtroppo una lezione durissima dovette dirci guardate che così non potete andare avanti. Mi sono chiesto quella sera poi ovviamente passiamo diversi anni in una guerra giudiziaria senza precedenti, arrestammo centinaia di persone e mi chiedevo tra me e me ma se non fosse morto quel ragazzo avremmo fin in fondo capito? Ed è possibile che tutte le volte dobbiamo capire le cose quando accadono fatti come questo? Non è possibile arrivarci prima, non è possibile costruire un sistema che a regime normalmente tiene le cose in ordine, è possibile per esempio comprendere che una città dove comandano 4 o 5 famiglie non può crescere economicamente e che quindi non crea posti di lavoro? È possibile capirlo? Prima? E allora una persona come me che ripeto non aveva alcuna intenzione di fare politica nella sua vita. Quattro anni dopo questi eventi di fronte al fatto che questa storia non si interrompeva in una situazione che non so neanche io descrivere oggi. Io ancora oggi non vi so spiegare come è potuto accadere che io alla fine mi sia candidato a sindaco di Bari. Quel che posso dire che assomigliava a un momento in cui sono diventato amico del mio miglior amico, ho conosciuto la donna che amo, quei momenti in cui non puoi spiegare, non sai neanche tu che cosa ti succede e succede qualche cosa di incredibile che mi porta a diventare il sindaco di Bari. Per la prima volta il centro-sinistra vince le elezioni, Bari era la capitale della destra trionfante. Una persona che voi conoscete bene, che si chiamava Pinuccio Tattarella, diceva che la Puglia era l'Emilia Nera e che Bari era la capitale di questa destra che addirittura in un progetto che si chiamava Oltre il Polo, ve lo ricordate? Doveva andare a prendere quelli di sinistra per portarli a destra, perché dovevano consolidare questa egemonia, come avrebbe detto Antonio Gramsci. E di fronte a tutto questo, gli intellettuali, i partiti della sinistra, in qualche modo si accomodavano, si accomodavano perché sembrava quasi che fosse meglio perderle le elezioni che vincerle, perché quando le elezioni le perdi non rischi che venga fuori un rompiballe come Michele Emiliano, come Iaia Calvi o come Nichi Vendola. È difficile quando le perdi le elezioni che possano succedere delle cose del genere. È molto più facile normalizzare le cose quando vince la destra, poi ti metti d'accordo con la destra, ti fanno loro qualche lavoro sporco che ti interessa e continua così. Perché il centro-sinistra in Puglia così ragionava, dieci anni fa, undici anni fa. Per favore, questa cosa è importantissima dal punto di vista politico, perché solo quando abbiamo detto no, mi dispiace, noi facciamo un progetto per vincere le elezioni e per assumerci la responsabilità di governare. E la città di Bari lentamente, non con un uomo solo al comando, come qualcuno va dicendo, non è andata così. A Bari un popolo intero si è sollevato, ma non buttando all'aria il tavolo, come fa Antonio Cassano quando si arrabbia o non lo pagano. No, non buttando il tavolo all'aria, non gridando, ma organizzando una buona campagna elettorale, organizzandola coinvolgendo tutti i pezzi della società, parlando anche con coloro che persone oneste, perché anche quelli che votano per il centro-destra nel 95% dei casi sono persone per bene, hanno solo paura delle cose che gli hanno raccontato, gli hanno detto che i comunisti mangiano i bambini, gli hanno detto che chissà che cosa combinano. Ed è tanta la brava gente alla quale bisogna parlare, anche a Ortanova, per dirgli, come diceva Giovanni Paolo II, non abbiate paura delle cose, influenzatele, fate in modo che queste cose accadano. Venite a partecipare, per esempio, alla costruzione del programma. Stiamo facendo per 4 milioni e 200 mila pugliesi la costruzione del programma dal basso, convocandoli tutti, esattamente come facemmo 12 anni fa a Bari. bloccammo la campagna elettorale che si faceva allora con i volantini, manifesti, e gli ho detto scusate, a che serve? Andiamo girando col tamburo. L'abbiamo anche fatto di girare col tamburo, ma secondo voi una campagna elettorale si fa a pacche sulle spalle? Non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare? Non è il caso di fermarci con la città a discutere le cose da fare? E facemmo nell'ultimo mese e mezzo di campagna elettorale 12 forum dove parteciparono 400 persone alla volta dove scrivemmo tutto il programma insieme, con gli esperti, ma anche con i meno esperti, perché alle volte gli esperti rischiano di vedere le cose sempre a modo loro. Serve anche qualcuno che sparigli il pensiero, che lo cambi, che dica guarda che io vivo in quel quartiere, lo so tu sei ingegnere, tu sei giardiniere, tu sei quello che vuoi, ma io ci vivo in quel quartiere e ti dico io qual è l'anima di quel posto. Ecco perché abbiamo ricominciato da questa esperienza. La città di Bari in dieci anni era un disastro dal punto di vista economico e finanziario, è diventata la prima città italiana dal punto di vista economico e finanziario. Dici questo che significa? No, non significa niente, però quando tu non hai debiti, quando il costo del lavoro di un ente locale è il 24% della parte corrente, quando ti puoi indebitare liberamente, quando hai un prestigio davanti a tutte le altre città perché sanno che tu stai lavorando seriamente, quando riesci a essere la prima città italiana per spending review, perché abbassi la spesa superflua e quando contemporaneamente hai il più alto numero di cantieri della storia della città, persino di più di quelli che si fecero quando c'era di crollalanza, perché i baresi alle volte non se ne accorgono, ma voi che fate un poco avanti e dietro da Bari vi accorgete che non c'è un punto della città dove tutto non sia completamente stato cambiato in questi dieci anni, ma non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista della testa delle persone, prendono gli autobus a Bari, sono diventati persino un poco più gentili, non so se ve ne siete accorti, che i baresi per farli essere gentili è dura, sono diventati anche più capaci di vivere in maniera collettiva, sono infinite le iniziative del terzo settore, allora molti di voi vivono Bari non come una cosa estranea, la vivono come la loro normale punto di riferimento, vanno a studiare, ci lavorano, vanno e vengono e si accorgono di queste cose e sapete cosa è successo improvvisamente? Che in molti altri luoghi hanno cominciato a dire ma noi non possiamo fare la stessa cosa, che poi non abbiamo fatto niente di speciale, credetemi io non sono un politico, non sono uno che ha studiato per fare il sindaco e non sto lavorando da solo, sto lavorando assieme a migliaia di altre persone, non vi dico adesso quante ce ne sono per la Puglia, stiamo semplicemente dicendo una cosa e la stiamo facendo, è successo anche a me che un mio assessore, a mia insaputa come diceva, tentasse di negoziare la proroga di un contratto di pulizia del comune in cambio di qualche assunzione con i subappaltatori, però i subappaltatori che subivano questa cosa non sono andati ai carabinieri, lo sapete? Indovinate da chi sono andati? Da me. E sapete cosa è successo? Che l'ho denunciato io all'assessore e sapete cosa è successo? Che l'hanno condannato. E basta una cosa del genere, la questione è finita là e non è successo niente di drammatico, non è vero quello che ti dicono. Adesso sono tutti contenti, tutte le imprese sono contente, perché adesso il sindaco fa l'arbitro, non gioca a scegliere chi deve vincere la partita. Quanti ne puoi accontentare con quel sistema? Dillo agli amici tuoi o agli ex amici tuoi. Quanti ne puoi accontentare col dout des? Un certo numero, non certo tutti. Quelli che non accontenti, quanto si arrabbiano? Moltissimo. E quanta economia sfuma in una concorrenza sleale perché amministrata male da chi dirige le cose? E quanti soldi possiamo risparmiare nella sanità pugliese se ci comportiamo in questa maniera e non facendo finta di niente? Ed è questo che alle volte ha portato a qualche conflitto dentro anche la nostra parte politica. Non era un conflitto ideologico, io non sono un ideologo, non sono neanche un uomo politico in senso proprio, sono semplicemente un servitore dello Stato che, passando dal fare il sindaco della propria città, che è una delle cose che possono succedere a chiunque, perché è una cosa diciamo abbastanza naturale, adesso si trova di fronte ad una cosa che non aveva previsto nella sua vita, addirittura di provare a diventare il Presidente della Regione. Ma a me personalmente, che ho 55 anni, credetemi, e che dalla mia vita, rispetto vi ho parlato da dove sono arrivato, ho già avuto dalla mia vita cento volte di più di quanto mi sarei mai aspettato e sinceramente avrei voglia di stare con i miei amici. In questi dieci anni ci sono amici con i quali ho rinviato le pizze e adesso non le posso fare più perché se ne sono andati. Ho visto i miei figli raddoppiarsi di altezza e non me ne sono quasi accorto. Sono passati dieci anni come quindici minuti, perché quando sei molto preso in situazioni come queste il tempo vola via e a me mi brucia il tempo che vuole, perché io sono come a voi, non sono diverso, non sono un capopopolo, sono semplicemente una persona che ha cercato di vivere come il mio bisnonno, come mio nonno, facendo il proprio dovere e cercando la mia felicità dentro le cose fatte bene. Le cose fatte bene, puoi essere falegname, puoi essere agricoltore, puoi essere quello che vuoi, le cose fatte bene, anche una torta fatta bene, dà una grande soddisfazione. E io, avete capito qual è il mio punto debole, da quest'ultima battuta. Io penso, per esempio, che nella sanità pugliese noi dobbiamo pregare i politici, un po' come faremo nei comuni, di allontanarsi dai soldi, da allontanarsi dalle nomine dei medici. Dovremo cercare di dirgli, guardate voi non siete pagati per gestire la sanità come se fosse un comitato elettorale. Noi abbiamo bisogno di far gestire la sanità a chi capisce di sanità. I politici a cosa servono? La politica a cosa serve? A dare degli obiettivi, a mettere a disposizione i budget, a fare i controlli. Il Presidente della Regione è inutile che nomini il Direttore Generale, poi a cascata il Direttore Generale si senta in obbligo di dover nominare i primari che forse votano per il centro-sinistra. Perché questa roba fa orrore, fa vergogna. Delegittima persino chi viene nominato. Perché delegittima il Presidente che li nomina e i direttori che vengono nominati. Noi proponiamo di fare come magistratura, non è perfetto il sistema, intendiamoci, di fare un organismo collegiale al quale chi vuole essere nominato presenta un curriculum, quindi un consiglio, chiamatelo come volete, organizzato bene con i presidenti dei consigli degli ordini, dei farmacisti, dell'università, parliamoci chiaro, una giuria fissa alla quale un Direttore Generale presenta il suo curriculum. Anzi, io gli chiederei addirittura di presentare un piano industriale. Perché gli obiettivi che gli vengono dati dall'assessorato e dalla politica, tu devi abbassare la mobilità passiva, che vuol dire, devi abbassare il numero di pugliesi che vanno a curarsi fuori, perché quelli ci costano un sacco di soldi. Tu, prima che io ti nomini, mi devi dire non solo com'è il tuo curriculum, ma tu come pensi di fare. Qual è il tuo progetto? Qual è la tua capacità? Perché così vengono assunti i manager. non vengono assunti cercando di capire da che parte politica stanno schierati. Ci sono consiglieri regionali che vengono sentiti dai pazienti prima dei medici se devono ricoverarsi. Perché solo in questa maniera... Io avrei voluto che in generale i politici arrivassero negli ospedali come arrivano tutti i comuni mortali, come vengono trattati, come vengono accolti. quando uno arriva e si sa che quello è il presidente, quello è il consigliere, quello è così, è tutto un altro mondo. Ma quando la gente normale ti racconta i fatti, ti racconta che per avere una risonanza magnetica alla tiroide ci vogliono otto mesi, nove mesi, dieci mesi, dici ma non c'è urgenza. Va bene, non c'è urgenza, ma io ho paura lo stesso, perché quando un medico mi dice che mi devo fare la risonanza alla tiroide non è che mi sta dicendo che ho l'influenza. Mi sta dicendo che probabilmente o che forse o che vuole essere sicuro che io non abbia un tumore. E mi permettete che otto mesi sono troppi? È possibile immaginare cose diverse. E per rendere tutto questo efficiente spendere meno di 7 miliardi e mezzo. La sanità pugliese costa 7 miliardi di euro e mezzo. E inoltre che vi sforzate, perché noi non ci possiamo riuscire a capire quante sono. Sono una somma pazzesca. Ed è una somma pazzesca che noi dobbiamo farci bastare, dobbiamo trovare la maniera di farcela bastare. E ci sono molte altre cose sulle quali dobbiamo intervenire. Abbiamo il ciclo dei rifiuti che non è chiuso, rischiamo di andare in emergenza ancora, perché non si sa in che modo chiudere in equilibrio il ciclo dei rifiuti. Chiudere in equilibrio il ciclo dei rifiuti che significa? Produciamo X quantitativo di rifiuti e dobbiamo sapere dove vanno a finire. E senza ipocrisie. Abbiamo discariche sufficienti? Abbiamo la capacità di fare la raccolta differenziata super spinta in modo tale da abbassare al massimo? C'è qualcuno, per esempio, mi auguro che ci sia anche del Movimento 5 Stelle che ci spiega la famosa teoria dei rifiuti zero? Io lo faccio assessore ai rifiuti, quello del Movimento 5 Stelle, se è capace di farmi sparire i rifiuti. Anzi, io nomino pure il diavolo se questo mi fa sparire i rifiuti. Ma se questa cosa non è possibile, non faremo discorsi ipocriti. Se è necessario termovalorizzare una parte di questi rifiuti, lo faremo. Perché non è più possibile quello che è successo a Foggia qualche tempo fa, dove se non arrivavamo da Bari a salvare la città di Foggia dall'invasione dei rifiuti, a questo punto Foggia avrebbe l'immagine compromessa come quella di Napoli. Ed è una cosa possibile perché non era colpa dei foggiani quello che stava accadendo. Tutto quello di cui vi parlo, come vedete, potremmo continuare a lungo. Per esempio sulla depurazione delle acque. Non c'è un depuratore che funzioni. In una terra che è senza acqua, che deve importare l'acqua addirittura dalla Basilicata, non recuperiamo un litro d'acqua affinata per l'agricoltura. Non fate solo il vostro esempio dove forse stiamo portando le falde ad essere addirittura invase dal mare nelle zone costiere. L'acqua diventa salmastra perché abbiamo fatto abbassare talmente le falde da portare a questi fenomeni. Stiamo bruciando la possibilità di irrigare, se continuiamo in questa maniera, buttando in mare, spesso in località turistiche rilevanti, molti litri d'acqua rovinando l'immagine. Acqua affinata, quindi acqua non pulitissima, con depuratori che non funzionano. Noi dobbiamo intervenire, dobbiamo cambiare le cose. Ma soprattutto, credetemi, dobbiamo fare in modo che il lavoro non ci scappi via. Se hanno fatto tutta questa scenografia bellissima, evidentemente era questo il messaggio che mi si voleva mandare. Ed è evidente che nessuno ha bacchette magiche, però moltissimo si può fare. Moltissimo si può fare, non solo per l'alta formazione, cheppure è importante. Abbiamo investito moltissimi milioni di euro per mandare all'estero a fare stage, personalità, laureati d'eccellenza, master. Ma non è che stanno solo i laureati d'eccellenza e i master. Nelle piazze dei nostri paesi i soggetti a maggiore rischio, quelli che hanno più difficoltà e quelli che avrebbero più bisogno di essere aiutati da questo punto di vista. Hanno solo bisogno di sapere, posso imparare un mestiere che mi consenta di fare forte l'economia del territorio? Posso sperare nel fatto che se date dei soldi ad una piccola media impresa dall'Unione Europea perché questa impresa in nuovi, quell'impresa che ha avuto questo grande aiuto mi assuma? È possibile fare in modo che la formazione che mi date sia corrispondente a quella delle aziende che aiutate e non invece scoordinata? Si può fare? È così difficile? Io penso che si possa fare e noi dobbiamo farlo. Non cambierà la situazione dall'oggi al domani ma certamente può cambiare le aspettative dei ragazzi con i quali dopo questo comizio mi andrò a incontrare perché se le loro aspettative si progettano solo fuori dagli luoghi dove sono nati e dove vivono noi siamo tutti morti, ci riempiremo ovviamente solo di persone che vengono da fuori, non c'è nulla di male ad accogliere qualcuno che venga da fuori ma programmare la nostra emigrazione intellettuale, peraltro investendo sull'emigrazione tutti i soldi e i risparmi delle famiglie perché la formazione di questi ragazzi a noi costa un sacco di soldi sia a casa che dopo nelle strutture statali ed è possibile far studiare le persone per mandarle via, ha un senso tutto questo? È possibile trovare la maniera, visto che molti di questi ragazzi anche quando sono e vivono in città meravigliose non fanno altro che scrivere su Facebook che c'è gente che sta, lo so, qualcuno che sta a Parigi e dice non vedo l'ora di tornare a Bari, non so com'è possibile ma succede perché voi questa terra la amate, perché qui siete nati, è qui che trovate, torno all'esempio di prima che mi sono cari, le braciole della nonna, è qui che trovate la festa popolare che vi piace, è qui che sentite parlare il vostro dialetto, io sono stato otto anni fuori di Bari e ogni volta che in televisione sentivo parlare uno in barese, dice fermi, fermi, lascia, che devo sentire, eppure non sono uno che ha pensato di sé di vivere dentro le tradizioni folk della città di Bari, in momenti non andavo manco alla festa di San Nicolo, vabbè non potevo andare perché era un pericolo pubblico, io se andavo alla festa di San Nicolo esponevo al pericolo tutta la processione, dovevo stare sempre a casa, non mi facevano andare a vedere manco le partite del Bari, solo a un certo punto sono potuto andare, ecco io penso che questa campagna elettorale alla quale stiamo lavorando, che stiamo facendo con grande entusiasmo, con grande serietà, senza proclami roboanti, non ce n'è bisogno anche perché la gente non è più, non ci crederebbe neanche più, se uno venisse qua a dire adesso non vi preoccupate, è arrivato Superman, io non sono Superman, non lo siete manco voi, però tutti insieme e lavorando con i nostri bisnonni e i nostri nonni possiamo fare cose che manco Superman sarebbe stato in grado di fare, perché Superman non ce l'avrebbe fatta a fare di questa regione senza acqua la foresta di ulivi piantati dall'uomo più grande del mondo, più grande d'Europa, questi ulivi sono minacciati in questo momento, voi lo sapete, nel Salento ci aspetta una battaglia durissima, ci aspetta una battaglia contro un nemico che ancora non riusciamo a sconfiggere perché non sappiamo come si fa morire quel batterio, abbiamo di fronte il mostro di fuoco dell'Ilva, chi diventa presidente della regione, sapete che gli succede la sera delle elezioni? C'è il primo exit poll, poi c'è la prima proiezione, la seconda, la terza, quello che vince, c'ha addosso tutte le cose di cui sto parlando, c'ha addosso tutti i protocolli di cura oncologici della regione, c'ha addosso tutte le occasioni di lavoro dei giovani, c'ha addosso, può farcela mai da solo, secondo voi ce la può fare uno da solo? Può mai immaginare un unico soggetto di fare? Ti alzi stanco? Affaticato? Hai dolori muscolari in genere? Materassi T&D ha la soluzione ideale ai tuoi problemi di schiena, con le sue sedie ad Orta 9 in Vialinoci 110, strada Mercato e Cirignola via Venezia 5 vicino all'Acquedotto. T&D vi invita a provare il materasso giusto per le vostre esigenze, ampia gamma su tutti i tipi di materassi, memory, lattice, poliuretano, molle insacchettate, molle bonel e tanti altri modelli. Ampia gamma sulle reti addoga e per un sano e corretto riposo. Agevolazioni fiscali per portatori di handicap e disabili sia su reti addoga e motorizzate che materassi. Riserviamo per questo periodo uno sconto per il tuo vecchio materasso acquistando il nuovo. Venite a visitarci, garanzia, assistenza e prodotti certificati a vostro servizio. T&D un consiglio giusto da uno staff di professionisti. Vi aspettiamo! Il dritto e il rovescio. Non è giunto il momento anche in luoghi come questo ed è per questo che l'impegno di Antonio è così importante. Antonio o Antonello? Lei lo chiama Antonello, vesseggiativo. Ecco perché è importante quello che ha detto Antonio. Perché noi abbiamo bisogno di costruire sul territorio, dentro il partito, anche fuori. Perché noi del Partito Democratico ci teniamo talmente che la gente partecipi attivamente che non ci interessa se si vogliono iscrivere è meglio, se non si iscrivono non fa niente. Se uno vuole rimanere nella sua associazione, vuole rimanere nel suo comitato, è libero di farlo purché sappia che non è più possibile delegare ad un eletto il tutto. Perché non ci sono uomini speciali o donne speciali. Esiste solo una comunità, come hanno fatto i nostri avi, solo una comunità che riesce a strappare la terra alle pietre, che riesce a irrigare e a costruire la più potente regione agricola d'Italia. Perché questo noi siamo dal nulla, senza neanche avere l'acqua con cui irrigare. Hanno fatto tutto questo. E noi ce lo siamo trovato in regalo, come ci siamo trovati in regalo città meravigliose, bellissime, dove forse non c'erano i piani regolatori, ma c'era il culto della bellezza, come hai detto tu. Erano capaci di progettare e di fare le cose anche solo piccoli oggetti d'arredo urbano in modo in cui ancora oggi noi non siamo capaci di farli. Perché? Perché evidentemente il nostro legame, la nostra passione per il luogo dove viviamo non è ancora sufficiente. E non è uno eletto a Bari che vive in via Capruzzi che può cambiare le storie di Ortanova o quelle di Cerignola. Noi abbiamo bisogno di costruire questa grande rete umana. Una grande rete umana che sarà incarnata in una legge sulla partecipazione attiva, che è la prima cosa che dobbiamo fare, che consenta ai cittadini della provincia di Foggia di gestire il loro destino dialogando con il Presidente, con la Giunta, come non è mai accaduto prima. Noi non dobbiamo eleggere un re, un sovrano. Dobbiamo eleggere, l'ho detto sul giornale, i miei esperti di comunicazione dicono che non lo devo dire, ma io lo dico perché è quello lo spirito con il quale mi sto candidando. Noi dobbiamo eleggere un maggiordomo, il vero padrone di casa, cioè quello che regola le cose ma non le influenza, quello che lascia la possibilità a ciascuno di essere come è, ma fa in modo che tutto quadri, che tutto rientri in un'armonia, dando consigli, suggerimenti, intuendo ma non sostituendosi alle vostre vite. In particolare a partire da un settore che è quello delle imprese agricole, innovative, quelle che volete voi, tradizionali, artigianali. Se questi i nostri centravanti della società, le imprese piccole, piccolissime, medie e grandi non girano e non producono reddito, è impossibile garantire i diritti. L'ho detto a Susanna Camusso che ho visto qualche minuto fa, glielo dico sempre, la sinistra non può più essere quella di una volta, non può più essere come i miei figli. I miei figli quando io gli dicevo, no mi dispiace questa cosa non si può comprare perché papà non c'ha i soldi. E loro dice papà non ti preoccupare, andiamo al banco Matteo. Non c'è il banco Matteo. Adesso la sinistra è una sinistra di governo dell'intero paese. Siamo noi che dobbiamo capire come fanno i padri e le madri a casa, come ci dobbiamo procurare il danaro per garantirci i diritti che ci siamo conquistati in secoli di lotte, in decenni di lotte. Noi del Partito Democratico, noi del centro-sinistra siamo quelli che hanno fatto la resistenza, che hanno fatto l'antifascismo, che hanno costruito il movimento operaio, che sono gli unici che hanno speso una parola per la parità tra uomini e donne. Siamo quelli della scuola pubblica, siamo quelli che accolgono le persone, però non possiamo essere solo dei conservatori di beni archeologici. I beni archeologici sono importantissimi. Io sto soffrendo le pene dell'inferno a vedere il massacro delle opere d'arte che si sta realizzando in queste ore a causa dell'ISIS, perché quella è la nostra storia, quella è l'umanità che si fa storia e che si tramanda nel tempo. Sono cose importantissime, ma non è su quelle cose che si costruisce il futuro, o comunque non lo si costruisce semplicemente conservandole. Se qualcuno avesse compreso prima che la politica di sfruttamento dell'Occidente nei confronti di quelle popolazioni era un eccesso che ci ha consentito di vivere per anni, anche a noi della sinistra, con lo sfruttamento di interi popoli. Perché noi consumavamo l'80% delle risorse di questo pianeta e gli altri dovevano mangiare pane e cipolle. È chiaro che nel momento in cui gli indiani, i russi, i cinesi, i brasiliani hanno detto adesso basta. Voi immaginate che se loro cominciassero a consumare la stessa carne che consumiamo noi in Occidente non basterebbero tre pianeti per gli allevamenti zootecnici, perché voi sapete che gli allevamenti zootecnici hanno un impatto ambientale molto forte. È possibile che questa giustizia universale, alla quale la mia parte politica ha sempre creduto, possa essere sostenuta a spese di altri esseri umani? Non è possibile. Noi dobbiamo quindi ristrutturare il nostro modo di produrre, il nostro modo di essere, assumendo la responsabilità delle cose. Esattamente come fa un sindaco, anche quando è delicato apparentemente, come Iaia. Perché noi questa responsabilità la dobbiamo assumere e siamo in grado di farlo. Siamo in grado di farlo, secondo me, a partire dal candidato che offriamo. Il candidato è un cocomeri a prova. Ve lo ricordate quando i cocomeri si vendevano a prova? Uno primo assaggiava e poi accatava. Insomma, a me mi avete testato. Sapete come ragiono, sapete quali sono i miei difetti, sapete quali sono le cose che so fare e quelle che non so fare. Dovete correggerli i miei difetti e dovete utilizzare le mie caratteristiche migliori, come fa un allenatore. Ma non basta eleggere il presidente. Dobbiamo eleggere altri candidati. Dobbiamo soprattutto fare in modo che anche nei comuni, perché io conto molto sull'aiuto dei sindaci, lo slogan che utilizziamo è il sindaco di Puglia, ma non solo per far chiacchiere. Perché il presidente della regione ha bisogno di tutti e 258 i sindaci e le migliaia di amministratori locali per tradurre le sue politiche sul territorio. Altrimenti come si manifesta la regione ad Ortanova se non ha un collegamento con l'amministrazione comunale? Come si fa a incidere? A questi sindaci bisogna dare un potere anche nell'organizzazione sanitaria. Sono loro quelli che conoscono gli utenti del sistema sanitario regionale e sono loro che devono dare una impostazione all'organizzazione sanitaria. Tutto questo che sto dicendo non sono bolle, sono banalità come voi vedete, ma l'accidente vuole che queste banalità che racconto su ogni piazza sembrano delle rivoluzioni. Sembra quasi che coinvolgere veramente il popolo nelle decisioni attraverso la partecipazione attiva sia una rivoluzione. Sembra quasi che coinvolgere veramente i sindaci che stanno cominciando a crederci nel rapporto con la presidenza della regione. Abbiamo detto che la presidenza della regione non avrà più sede solo a Bari, sarà dislocata in tutte e sei le province, ma non solo a chiacchiere simbolicamente nello statuto, anche in concreto il presidente della regione sarà, con un calendario che verrà fissato a inizio anno, presente in ogni provincia in modo tale che i sindaci, gli amministratori e chi vuole parlare con il presidente non debba chiedere un appuntamento, che mi dicono sia un dramma avere un appuntamento da chi lavora in regione, ma si deve sapere che quella persona è lì in quei giorni e come fa il sindaco a un giorno di ricevimento. E quella segreteria che sarà a Foggia, mi auguro, gratuitamente ospitato dalla provincia, perché visto che le province stanno per estinguersi, quando verrà approvata la riforma costituzionale, anzi che è stata approvata e verrà definitivamente approvata, le province scompaiono e le regioni si dovranno porre il problema di come governare le province e le aree vaste e ci prepariamo in questa maniera, ma stringiamo la distanza. Nel frattempo però bisogna fare in modo che i sindaci non siano come quello di Bari di tanti anni fa. Non sia della gente che si mette insieme perché tiene un terreno che gli vuole cambiare la destinazione d'uso. Non possono essere i sindaci strumento di interessi privati. I sindaci devono essere, come i presidenti delle regioni, espressione della costruzione dell'interesse generale o del bene comune. Questa cosa aspetta voi, non la può fare nessun altro se non voi. Se voi sbagliate, poi non potete lamentarvi dell'errore che commettete. Certo, Iaia ha fatto, come posso dire, molte cose e può darsi che ne abbia sbagliata qualcuna. Per esempio, non mi ha votato alle primarie e sicuramente ha sbagliato. Ma è questa una ragione? Ecco, per favore, non mi sottovalutate. Voi pensate che basti non votarmi alle primarie perché io poi adoperi una categoria amico-nemico. Ma avete preso per una persona così? Voi pensate che mio padre o mio nonno o mio bisnonno mi abbia insegnato che se qualcuno mi dice no diventa un nemico mio. Cioè io non sarei capace di tenere unita il mio partito, la mia città, la mia comunità. Ho bisogno di voi, certo, perché basta poco per rompere e moltissimo per costruire. E probabilmente in privato, non in pubblico. Io darò a Iaia tutti i consigli che le posso dare e lei darà i suoi consigli a me per immaginare in che modo si possa far meglio questo lavoro di costruzione dell'unità, dell'unità di intenti senza pretendere nulla in cambio. Questo è un lavoro che si deve fare, si deve peraltro anche smettere, te lo dico davanti alla tua gente, devi smettere di pensare al passato. Da adesso bisogna pensare al futuro, bisogna pensare alle cose positive da fare. Quella signora che ha applaudito per prima, chi è? Che ti vuole bene evidentemente e ha colto subito la necessità, perché la politica non può essere retrospettiva, lo so, la retrospezione è una cosa bellissima, si possono scrivere i romanzi, si possono fare i film, ma non si può fare la politica. La politica deve conoscere, la storia, ma non la deve guardare troppo a lungo, perché deve progettare il futuro. La politica è progettazione del futuro, una progettazione coerente, una progettazione condivisa, una progettazione che cambia le cose. Ho capito, avete freddo. E io termino qui. Vi ringrazio per avermi atteso, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio soprattutto per aver ascoltato attentamente un discorso di un uomo normale che per avventura, credetemi, rischia di diventare presidente della regione Puglia. E se questa cosa si dovesse verificare, per favore, non lasciatemi solo. Ho bisogno di voi, ho bisogno della comunità di Ortanova. Grazie di cuore.